Si è svolta stamattina presso il foyer storico del Teatro Marruccino la conferenza stampa di presentazione della Notte Europea dei Ricercatori 2019, organizzata dall'Ateneo D'Annunzio per il 27 settembre prossimo nel Centro Storico di Chieti. Alla conferenza stampa hanno partecipato il magnifico rettore della D'Annunzio, professor Sergio Caputi, il professor Arcangelo Merla, coordinatore scientifico dell'evento, il sindaco di Chieti, l'avvocato Umberto Di Primio e il direttore generale della D'Annunzio, dottor Giovanni Cucullo, alla presenza, tra gli altri, dell'avvocato Cristiano Sicari, presidente del Consiglio di Amministrazione della Deputazione Teatrale del Marruccino. Dopo lo straordinario successo dell'edizione 2018 della Notte Europea dei Ricercatori, che per la prima volta l'Ateneo ha voluto portare nel Centro Storico di Chieti, abbiamo ricevuto continue e importanti sollecitazioni a ripetere l'evento anche per il 2019. Abbiamo raccolto questo invito e abbiamo deciso di preparare un programma molto molto ricco che offriremo alla città la sera del 27 settembre prossimo. La Notte Europea dei Ricercatori è un momento importante in cui l'Ateneo apre le proprie porte alla cittadinanza, al territorio, e il territorio risponde con interesse, con entusiasmo, a quella che è l'offerta che l'Ateneo pone in termini di conoscenza della qualità e della quantità della ricerca che tutti i giorni sviluppa nei propri laboratori e nei propri centri di ricerca.